Salve a tutti, sono Mattia per le amiche più intime Matioschi e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a un nuovo appuntamento con facce da ciop, la rubrica settimanale su wrestling con il consueto roster di ospiti, ne abbiamo perso uno oggi, un po' come The Rock l'anno scorso che forse avrebbe dovuto partecipare a Wrestlemania ma poi ha avuto degli impegni hollywoodiani che l'hanno tenuto lontano da noi, ciao Max, guardaci lì da Las Vegas ma nel frattempo abbiamo Mike, Pepsi, si non è venuto a mancare per fortuna, benvenuto. Ciao ragazzoli, siamo in due per adesso quindi il benvenuto di oggi è il quadro di Wrestlemania. E anche un altro nel dietro le quinte che sta per interferire un po' come Cody ieri, adesso arriva. E partirà la canzone di Renato Zero, il triangolo no, perché penso che questa sarà la team song del match di Wrestlemania. Potrebbe essere, dobbiamo pensarci nel dettaglio. Salve Chirio, è arrivato. This is bullshit, this is bullshit, no triple threat, no triple threat. Ciao Michael, viva la razza, mi raccomando, sempre. Vedremo. Allora, innanzitutto, prima di gettarci nel vivo di una discussione che credo ci coinvolgerà, ho finalmente stilato i risultati del quiz sulla Royal Rumble ed è stato un po' difficile perché se vi ricordate bene alcune risposte sottraevano punti, quindi un colpo di scena dietro l'altro. Io mi sono lato sui piedi tantissime volte. Però sono contento di aver fatto schifo perché meno male che hanno vinto quelle persone là. Io ero sfiducioso e sono contento di aver perso in modo cramoroso. Mi dispiace che Vicky non sia ancora arrivato, ma io comincerei a proporvi l'esito di questo quiz. C'è anche il banner pronto, guardate che bello. E allora, ovviamente abbiamo analizzato tutti i vari incontri che non erano moltissimi, ma soprattutto per quanto riguarda le Rumble ci siamo divertiti inventandoci regole astruse e predizioni improbabili. Quindi iniziamo dalle cose più semplici. Ad esempio, Logan Paul contro Kevin Owens. Qui abbiamo indovinato tutti, quindi un punto ciascuno che in sostanza annulla la caratura del quesito. Perché se tutti vincono, tutti perdono al contempo. Pensate a questo paradossi. Però sì, qui l'abbiamo azzeccata. Ci stava, ci stava. Noi siamo passati al Fatal Four, dove non bisognava limitarsi a predire il vincitore, anche perché era abbastanza scontato, ovvero Roman Reigns. Ma qui l'inghippo era chi schiena e tutti, abbiamo detto AJ Styles, tutti a parte uno, che oggi forse è assente un po' per quello. Per quello secondo me era sofferenza. Max aveva detto schiena LA Knight. E invece ci dispiace, ma non è andata così. Purtroppo Styles è stato schienato, relativamente protetto, perché sono state colpite le corde, lui è inciampato e poi si è preso la spear. Ma ecco, passiamo al vivo del problema. L'eroia Rumble. Qui le predizioni avevano tre teste, ovvero dovevamo azzeccare il vincitore o la vincitrice, le ultime o gli ultimi quattro e le cosiddette sorprese, quindi arrivi di atleti inaspettati. Cominciamo dall'aspetto più semplice, ovvero i vincitori. Iniziamo dalla Rumble femminile. Ancora una volta, tutti ci siamo schierati a favore di Bailey, tranne Max che ha detto Becky Lynch. No, io mi sento che io ho detto Becky Lynch. No, tu all'ultimo hai cambiato idea. Ho cambiato, grazie. Riccardo, sei quello che cambiava idea ogni due secondi. Che bello. Esatto, anche il pubblico volendo può andare a controllare la moviola. Io qui ho segnato Mike Bailey. Non lo so. E qua appunto abbiamo attribuito dei punti. Ma adesso iniziano le domande più complesse. Le ultime quattro. Ora, se ho fatto bene i conti, sulle ultime tre non ci sono dubbi. Sono sostanzialmente Jade Bailey e aspettate che ve lo dico... Chi era l'altra? Liv Morgan, mi sembra. Giusto, Liv Morgan, assolutamente. Che è stato anche l'ultimo ingresso. La quarta dovrebbe essere Bianca Belair. Perché Tiffany cade prima. È corretto? Sì. C'è Tiffany appesa alla treccia, vengono buttate giù entrambe. Ma mi sembra che la Belair tecnicamente fosse la quarta ultima. Quella che tocca prima terra è la quinta ultima, quindi sì. Eh sì, sì, sì. A questo punto, se uno dei contendenti al quiz indovina una delle quattro, vince un punto. Ma se ne sbaglia una, perde un punto. E allora iniziano le cose divertenti. Perché ad esempio Mike ci ha detto che tra le ultime quattro avremmo avuto Nia Jax, Bailey e Becky Lynch. Una delle tre è giusta, ma sono più le risposte sbagliate che quelle corrette. Quindi sottraiamo un punto a quelli finora accumulati. Kirio non è messo meglio. Perché aveva sostenuto la presenza nelle ultime quattro di Bianca Belair e ok. Becky Lynch e persino Sasha Banks. Maledetto, Sasha. Cosa aspetti a tornare, Sasha? Max si prende zero punti perché aveva detto Bailey, Bianca Belair, Nia Jax e Becky Lynch. Due giuste, due sbagliate. Victor, come voi, Becky Lynch, Nia Jax, Jade Cargill. Quindi meno uno. E poi c'è il sottoscritto che disse Becky Lynch, unico errore. E poi Bailey, Jade Cargill, Bianca Belair. Due punti. Hai capito, Matioski? Così, eh. In scioltezza. Mi stai impazzendo la lampada, raga, non so. È posseduta da Mediamenti Versa e Media. Non ci va di caso. È The Rock, è colpa di The Rock. È The Rock, sì. The Rock. Ma i debutti a sorpresa. Anche qui, debutto corretto, un punto, debutto sbagliato. Ne togliamo. E Max aveva detto, non so perché l'ho segnato per primo, AJ Lee e Jade Cargill. Capirete bene, quindi, zero punti. Victor e AJ Lee e Jade Cargill, zero. Kirio, così, Sasha Banks e DJ Lee. Meno due, Kirio. Chi ha usato? Mike, Jade Cargill, Mickie James e Naomi. Quindi, un punto. Ogni anno ci sta Mickie James, quest'anno ho detto, no, 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 no. Perché due sono giuste, una è sbagliata. E lo stesso vale per me, che avevo detto, AJ Lee, Jade Cargill e Naomi. Un punticino. Via così. Via così. Ebbè. Passiamo alla Rumble maschile. E qui, già sul vincitore, c'è stata una caporetto. Perché abbiamo detto, si è in punk tutti, tranne Kirio con Gunter e Max con Cody. Qui, l'unico a spuntarla è Max. È venuta fuori l'esperienza di Max, dai. Eh, sì, sì, l'aveva imbroccata stavolta. Ma passiamo ai Final Four, che in questo caso sono molto più chiari, evidenti. Gunter, Punk, Cody e Drew. C'è una persona che li ha indovinati tutti e quattro, ed è Kirio. Quattro punti. Dai, ragazzi, questa è stata una bella mossa. Qui, sì, 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 qui. Anche qui è venuta fuori l'esperienza da fan lunga data. Porca vacca, direi che te la sei cavata brillantemente. Poi abbiamo Mike, che aveva detto Cody, Punk e solo Sicoa. Un punto. Che non era... Era nel catering in quel momento. Eh, già. Aveva parlato a magnaio. Max, Cody, Punk, Drew, solo. Di conseguenza, due punti. Victor addirittura aveva detto Punk, Cody, Gunter, MJF. Eh, pazzito, Victor. Foglia totale. Due punti. E poi io mi ero limitato a Punk, Cody e Jay. Addirittura Jay uso. Quindi un punto e basta. Ma qui si sparigliano le carte, perché sugli ingressi a sorpresa c'è stato un massacro deflagrante. Okada. Iniziamo da Mike, appunto, con Corey Graves, Andrade, Okada e Lesnar. Mino due. Pum, pum, pum. Ma c'è chi ha fatto peggio, ed è Chirio, ragazzi. Avete preso in cui quattro punti guadagnati prima? Ecco. Mangiati. Lui addirittura si è sbilanciato con cinque pronostici. Ah, quindi probabilmente vincevi, ma con questi pronostici sei... Andrade, e vabbè, MJF, Rob Van Damme, Velvet in Dream e D-Rock. E come vuoi perdere, però, eh? Meno tre. Max, si era un po' limitato ad Andrade e Lesnar, quindi zero. Victor, D-Rock, MJF, Brock Lesnar. Meno tre. E il sottoscritto Andrade, Brock Lesnar, D-Rock, meno uno. Ora, se avete tenuto i conti, la classifica è questa. Dal basso abbiamo Victor e Chirio con un punto a testa. Ah, penso che sia... Buu, buu. Medaglia di bronzo per Mike con due punti. Medaglia d'argento a Max con quattro punti e medaglia d'oro al sottoscritto con sei punti. Stai! Non so neanche come sia stato possibile. Secondo me è truccata la cosa. Sì, sì, la muoviamo in campo. Andate a verificare. È impossibile. Ben sei. Verificate, verificate. Il prossimo anno a Rumble non dico neanche un nome. Ma perché sono stato conservativo sulle domande che toglievano i punti. Io sono rimasto zitto, zitto. Ma perché tu hai giocato di furbizia quando ci hai detto... Salve, Victor. Salve, scusate, l'hai irritato come al solito, ma... Salve. Metti gli ingressi a sorpresa. Abbiamo finito calcolato i punti del quizzone, Victor. E tu sei ultimo assieme a Chirio con un punto solo. Cazzo. Lo so, azzeccato dai, non mi ricordo più cosa avevo... No, ma all'inizio ne avete anche azzeccate tante. Il problema è stato sulle domande che toglievano i punti. Che hanno arato la situazione. Ha vinto il sottoscritto stranamente con sei punti. Una roba imprevedibile. Oggi si pronuncia una puntata tranquilla. Eh sì, sì. Infatti, dopo esserci divertiti, credo che possiamo dare inizio al massacro. Io comunque questi quizzoni le farei anche per i prossimi preview. Ma certo! Quello di WrestleMania 40 sarà interminabile. Non appena capiremo le card... È molto più diretto, ovvero chi vince, chi non vince. Buonanotte. Non ci sono molti dubbi. Quella Chamber si pronuncia abbastanza scontata. Eh, forse sulla Chamber possiamo giocare sull'ordine delle eliminazioni. Ricordiamo che la Chamber sarà strana anche come orario, perché è tipo la tarda massinata. 11 di mattina, mi sembra. 11 di mattina, perché è in Australia. Sì, perché è in Australia. Io posso dire che non sono propriamente scontento di questa cosa. No, neanche io. E poi andrà ancora meglio quest'anno con due eventi in Europa. Quindi ce li cucchiamo in prima serata. Ma che bellezza. Germania e Francia. Americani, come ci si sente? Ci ho detto. Allora, mi rendo conto che sia un titolo un po' provocatorio. E ho già visto che tantissimi non sono d'accordo. Però ieri si è tenuta la conferenza stampa di WrestleMania 40. Con non pochi colpi di scena. Anzi, direi che è un evento che se non avete visto è assolutamente da recuperare. Tanto dura un'oretta scarsa perché è dura un'ora e un quarto il tutto. Ma ci sono 20 minuti all'inizio che non sono niente di che. Sono commento di colore. E poi questi 40 minuti centrali. Anche all'inizio quei commenti sono interessanti. Assolutamente. Perché comunque c'è Punk. Assolutamente. Tra l'altro, non so se avete visto che settimana scorsa hanno mostrato un footage di lui che veniva operato. Quello credo fosse vero. Non mi sembrava una cosa anche fatta. Mi sembravano immagini reali. E' stato bellissimo, scusate, il commento di Michael Cole quando ha introdotto Punk. Cinque volte campione del mondo. Voice of the Voiceless. E soprattutto il marito di AJ Lee. Sì, sì, sì. E allora, cos'è accaduto? Sì, diciamo che si sono presentati tanti wrestler. Sono stati abbastanza generici. E' stata riconfermata la sfida Becky Lynch e Ria Ripley. E' sempre inesorabile. Rendendo sempre più scontata la chamber, però va bene. Decisamente. Ovvio. E al contempo rendendo scontato anche il match Ria contro Naya. Non che ci fossero dubbi, dato che l'evento in Australia, però... Beh, però non credo che qualcuno abbia mai pensato che vincesse Naya Jax. No, 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 no. Tanto mi piace come Ria Ripley ha affrontato Becky Lynch senza mettere in conto che volendo potrebbe anche perdere contro Naya. Quindi è un match totalmente inutile, però va bene. C'è il senso. Ma io andrei subito dritti al punto, perché c'è stato un vero e proprio main event all'interno di questa conference, press conference. Riguardava la scelta di Cody Rhodes, che è una cosa semplice, direte voi, e invece è stata incredibilmente complessa. Si è presentato subito Seth Rollins, che ha fatto la figura della scelta di Serie B, possiamo dirlo apertamente. non credo l'abbiano presentato con tutti i crismi. Io non sono del tutto d'accordo, ti dico la verità. Beh, è rimasto lì tutto il tempo a fare la rivista. Io non lo dicevo a Kiri, a me ha fatto ridere il fatto che lui per tutto il tempo sia stato dietro sullo sfondo a fare facce indignate. A me ha fatto avere la rivista. Sì, quello è vero. Allora, sicuramente è stato simpatico come apporto al tutto, però sono più d'accordo con Matioschi. Sul fatto che sia sembrato molto il ripiego, a parte quello che dicevano, cioè anche Roman che alla fine diceva no, tu comunque a Cody diceva hai finito, hai sprecato la tua occasione, ora ti rimane di andare per il titolo secondario, vai nella Lega minore. E lui lì che sta semplicemente aspettando che gli altri scelgano in definitiva quello che sarà anche il suo match. Quindi lui è lì, aspetta e sta lì a prendersi le battute. Simpatico, però sicuramente in qualche modo ne esce un pochino ridimensionato. E che non ha avuto fase di rivalsa all'interno dello scambio verbale. Magari ce l'avrà nelle prossime settimane. Diciamo che ieri si volevano concentrare su quel main event. E siccome Rollins tende ad essere parecchio carismatico, avevano magari paura che se gli avessero fatto fare qualcosa avrebbero deviato da quello che interessava il pubblico. Quindi capisco anche il perché tenerlo defilato, però per l'appunto anche se è defilato a me faceva morire perché avevano queste espressioni facciali un po' dirompenti. Ma prima di proseguire abbiamo due super chat. Innanzitutto Francesco Gervasi che ricorda il famigerato commento sicuri di aver qualcosa di cui parlare ogni settimana. Credo fosse un commento da parte di chi non conosce molto il mondo del wrestling. Che non si ferma mai e ogni settimana propone. Ci sono magari delle settimane, però comunque sai cos'è? È che rispetto a altre forme di intrattenimento, essendo tutto live, può sempre succedere qualcosa di inaspettato, tipo un infortunio, tipo la roba di punk. Non era una cosa ovviamente attesa, quindi crea tante di quelle situazioni collaterali che ne parla che dai da fare un mese. Anche se ci dovesse essere quella volta che non abbiamo nulla di cui parlare, ci recuperiamo un vecchio pay per view e si parla di quella. Ma sì, ma si trovano sempre argomenti. Mentre Matteo Blackheart Paperini spende due euro per garantire la vittoria di Cody. Bastava anche meno. Secondo me saranno investiti saggiamente. Anche perché credo che dopo ieri la strada adesso sia un attimino più chiara. Cioè anche per il turnface di Roman, secondo me le cose sono abbastanza... E dunque, mentre parla Seth, arriva Roman. Che si autoconferisce il potere di scegliere il suo match. Dice che ormai Cody ha perso l'occasione, è stato troppo attendista e quindi ci penserà lui a decretare il main event di Wrestlemania. Cosa vuole? E già per tutta la serata The Rock è stato di nuovo fortemente contestato. Era già successo lunedì a row. Ma ieri forse ancora di più, sebbene ogni tanto ci fosse qualche sparuto coro, Rocky Rocky, ma venivano immediatamente sommersi dalla contestazione. Io sentivo We Won't Cody Fuck The Rock, però potrei sbagliarmi. Ah, ma ha giù ragione! È assolutamente normale che comunque i cori non siano devastanti, nel senso che è The Rock, ragazzi. Cioè, la potenza mediatica è enorme. Ma già che ci siano dei cori contro di lui è tanta roba. Ah, ma poi credo che sono i classici cori che nel wrestling diventano approvazione. Cioè, sono negativi, ma significano coinvolgimento del pubblico. Il pubblico li fa con intento non denigratorio, in teoria. Cioè, è per dare entusiasmo alla cosa, quindi ci sta. Anche se questo è un po' un casolimite, eh, che trascende fantasia da realtà. Boh, secondo me, già con l'annuncio della conference, penso che il pubblico sapesse che era tutto fatto apposta, in un certo senso. Poi ne parliamo perché già il fatto che Roman scelga come match lui contro The Rock, contribuisce all'incazzatura generale. E qui sono stati bravi. Sorpresa delle sorprese. È tutta la narrativa del corporate, secondo me. Corporate The Rock, corporate Roman, tutto in quella storyline lì. Cioè, come se lui si sentisse in qualche modo protetto dal fatto di avere lui nel board of directors. Certo. Addirittura me l'avevano chiesto in settimana e io l'avevo escluso. Ma The Rock si propone come Hill. Beh, visto come lui gestisce la sua immagine negli ultimi anni, io ti giuro, era l'ultima cosa che mi sarei aspettato. Sono d'accordo. Non l'avrei mai pensato. Ma fin da subito non sorride, è molto arcigno, è molto serio, non fa battute e soprattutto dimostra di supportare Roman nel suo intento di celebrare la loro grande stirpe nel main event più grande di tutti i tempi. Fischi inauditi. Addirittura che doveva intervallare il discorso. Tra l'altro, non so se lo sapete, ma nel pomeriggio di ieri questa cosa era stata tiserata perché The Rock è stato ospite di un podcast dove ha, per l'appunto, coniato il termine Cody Crybabies. Che ha ripetuto durante la conferenza, però già ieri qualcuno mi ha detto ma è Hill. Io ho visto questa, infatti io non me l'aspettavo, però non da prima della conferenza, da prima di quel podcast, perché da quel podcast si capiva che forse sarebbe stato Hill. Sì, tra l'altro era una cosa di portata nazionale perché era sull'ASPN da Pat McAfee. Esatto, sull'ASPN ed effettivamente era già un po' arcigno, rideva, scherzava, però quando è arrivato il momento di parlare dei fan di Cody si è un po' scurito in volta e ha iniziato a percularle. Quindi già da lì si poteva intuire dove sarebbe andato a parlare. The Rock come Hobbs nel suo spin-off dove c'è anche Roman, la famiglia non si tocca, più cento per il ritorno di Hollywood Rock. Io direi che questi soldi sono anche un plauso all'Igdrasil dei Samoani che hanno messo un certo punto su schermo. Quello è bellissimo quella cosa. Beh, impressionante, uno lo sa, però da vedere su schermo è impressionante. Sì, sì. Quindi, sugli schermi laterali appare come match decretato per WrestleMania 40, Roman contro The Rock. Sembrerebbe fatta. Fino a quando non arriva Cody, tra l'altro senza musica. E infatti mi aspettavo la musica, perché all'inizio della sua team song dice c'è più di una famiglia reale del wrestling. Quindi parliamo di famiglia reale. Eccolo, ecco l'ho ritornato. E lì The Rock ha insistito su questo concetto della famiglia Samoana, l'unica famiglia reale. Se ci pensate, l'assenza di musica rende il tutto meno finto. Questo è vero. Secondo me, capito, meno spettacolo e più... Io rido sempre quando i wrestler raccorrono in aiuto dei compagni. Ma prima fai partire la mia team song. Sì, sempre, sempre. E con la famiglia di regia, vabbè. La reso più shoot. Cioè, Cody che dice, no, aspetta, devo prendere il microfono, devo andare... Sì, sì, perché effettivamente il fatto che non ci sia la musica rende tutto meno show e più litigata, capito? Sì, che è come quello su cui stanno puntando ultimamente. Che vedi quando fanno vedere i wrestler che arrivano, che scendono dall'autobus, dal treno. Sì, dal treno. Oddio, panca all'oltre l'anno scorso dal treno. E Cody dice, corcazzo, io sono il vincitore della Rumble, scelgo io e vado io contro Roman. E cambia anche la grafica. Sì, complimenti al grafico della Rumble, che è stato velocissimo. Ed entra Cody. Sì, poi anche i wrestler in posa, quindi loro, a prescindere, fanno certe foto. Poi ci pensano i grafici a strutturarle. Ma non finisce lì, perché The Rock rimane bello arcigno, addirittura provoca Cody parlando del padre. E Cody risponde dicendo che sia The Rock che Roman sono sostanzialmente una vergogna per il loro retaggio samoano, visto il modo in cui si stanno comportando. E The Rock risponde con uno schiaffo al volto di Cody. E poi grande caos, grande confusione. Rollins che se la prende tantissimo. Rollins, sì, difende Cody. Se la prende con The Rock e Roman. Un altro, potenzialmente. Beh, è un tag team match palese, penso, tra i quattro. Da notare come poi, nel commento che conclude l'evento, venga sottolineato in modo chiaro come The Rock faccia parte delle alte sfere dirigenziali della TKO. Sì, c'è stata anche una intervista con Triple H, poi dopo. Triple H che parlava con l'intervistatrice e The Rock che gli passa dietro e dice Oh, amico mio, devi sistemare queste cazzate. E' un casino. Quindi, come dicevate, lo propongono anche come corporate in modo plateale. Platealissimo, sì, sì. Sì, sì, sì. Il che, anche questo, mi ha sorpreso. Non mi aspettavo che prendessero quella strada. Ora, se la strada è stata indirizzata per la risposta del pubblico, o se era già quello che avevano i pubblici. Eh, esatto, non lo so. No, secondo me è arrivata dopo. Anche per me, perché era un errore di scrittura che hanno leggeato sia Cody che Rollins. Più che altro il segmento di SmackDown di venerdì scorso è stato completamente arato, non ha molto senso. Sì, retcon completo. Allora, secondo me vanno comunque fatti degli applausi per aver capito di aver pestato una cacca e aver rimediato in corsa. Oltretutto, come diceva Victor, The Rock, che propone un'immagine sempre pulita. Il fatto che si metta in gioco da Hill dopo tanto tempo è veramente sorprendente. Io faccio anche notare una cosa, nel senso che dovete pensare, questa faccenda ha molto in comune con Black Adam, con quello che si era comportato con Black Adam. Ma soprattutto dovete considerare che Black Adam va bene che è sempre stato un personaggio un po' borderline nei fumetti. Però, nonostante partissera cattivo nel film, era poi un buono totale. Quindi anche un personaggio che comunque nei fumetti non è proprio buonissimo, lui l'ha trasformato in un buono. Per cui è per quello che io credevo non avrebbe mai fatto l'Hill. Perché è proprio in una fase della sua carriera in cui non può passare come personaggio negativo. E invece si è fatto odiare abbastanza stanotte, secondo me. Finché altro, secondo me, l'unico vero problema, anche se fosse stata tutta una storyline di questo evenimento, è stato il far dire a Cody che sì, ti sfiderò, ma non a Brestelmania. Perché è una cosa che si è rimangiato poi dopo due giorni. Lì possono inventarsi che era stata un'imposizione dall'alto, possono giocare su quello che gli ha detto The Rock all'orecchio. Sì, esatto, esatto. Ma non solo. Ma non solo perché Cody ha detto, ho parlato con te, però poi ho parlato anche con altre persone. Quindi la mia decisione è cambiata rispetto all'aspetto. Secondo me la chiave di questo cambiamento a livello di storyline sta nel segmento con Drew McIntyre di Raw. Quello di quando ha mostrato la maglietta col meme di Punk e ha cercato di reindirizzarlo. Vabbè, lasciamo stare che quella è sullo shop, quindi è già mia. Però quando c'è stato il segmento a tre con Cody Rhodes, Seth Rollins e Drew McIntyre. Ecco, quello secondo me è un po' la chiave del suo Change of Art. Ho questa idea, sì. Però io vi domando. In quel caso, magari già prima di SmackDown, avesse parlato con The Rock e lui in qualche modo, anche non da Hill, l'avesse convinto come a dire, it's best for business. Eh, esatto. Non lo fai. Ci penso a sistemare, poi arrivi tu e poi ti lascio. E poi ci ha ripensato, in quel caso ci sta. Perché volevano risolversela in famiglia, diciamo. Quindi l'idea è quella, quella che passa. Volevano risolversela così. Eh sì. Dobbiamo ringraziare Drew McIntyre per questo a livello di storyline. Grazie veramente. Il vero. Ma io non lo so. Viste le interazioni e posso anche dirlo, la finezza delle stesse. Ma voi vi aspettate un semplice Cody contro Roman? No, no, no. Io sì. Io anche. Perché io mi aspetto il triple fret, ragazzi. Io spero di non. Sarà una lotta di potere tra la tribolace e The Rock e The Rock che si infilerà la forza nel match. Se posso dire, io mi aspetto un doppio match con interventi vari. E secondo me, adesso che The Rock si può dedicare un po' di più al wrestling, visto che nel board di TKO e che dopo la questione di Black Adam e altre cose a Hollywood non se lo stanno più litigando come una volta, io mi aspetto che questa cosa del match tra lui e Roman la portino a un evento successivo. anche perché ci starebbe, se pensate, con Roman che perde la cintura a Wrestlemania, l'unica cosa che gli resta da difendere è la collana di Peperoncini Soverato. Però The Rock è diventato Hill. Esatto. Infatti Roman secondo me va sul face dopo la sconfitta. Ma secondo me, infatti, con la sconfitta The Rock dirà allora, Roman ha dimostrato di non essere all'altezza e quindi può andarsene dalle scatole. Io adesso sono il capo della bloodline. Allora, cominciamo a dire una cosa. Cominciamo a dire una cosa. Una gestione di authority, ovvero The Rock, che va sempre contro Cody e la puoi portare avanti, anche senza per forza fare il match subito. Puoi comunque gestirterla così per un bel po' di tempo. Io non sono così convinto che The Rock sia disponibile ad libitum per mesi, mesi, mesi e ancora mesi. No, però non è diventato il capo della WWE, anche in storyline. Comunque Triple H ha il suo influsso, altri hanno il loro influsso, anche tutti i membri di TKO e Endeavor e tutto. Quindi non è che lui effettivamente può decidere. Lui semmai può convincere, può cercare di convincere gli altri della direzione a inserirlo. Però secondo me il Triple Threat è la soluzione peggiore che possa esserci per Mania. A quel punto, guarda, meglio come è paventato i due match. Quindi Roman che lotta nel main event di entrambe le serate. No, perché dovrebbe farlo? A me sembra tutto chiarissimo. Semmai fai Cody Rock e la seconda notte è Cody Ray. Esatto, al limite per quello. Cody contro due. Fai dopo tutti i saccodi. Però l'hanno messa palesemente come il remake della 30. Sono d'accordo. A me sembra, ma veramente, il remake più ragionato e più strutturato di WrestleMania 30. è uguale. Ovvero... Manca solo il video di Monster con Cody che... Ovvero la corporation che spinge contro un match che... A favore, scusate, di un match che nessuno vuole. A Brian non ha vinto la Rumble. Eh, proprio sì, diciamo... Lo so, però ieri l'hanno praticamente stromesso all'inizio. Han detto, ma no, ci pensiamo noi. Chi se ne frega di quello lì che ha vinto la Rumble. Cioè, loro hanno provato a dire questa cosa. Loro hanno provato a dire questa cosa. Poi Cody è entrato giustamente e ha detto, ragazzi, sì, ma io ho vinto la Rumble. Quindi, come ha detto Panca all'inizio. Come ha detto Panca all'inizio. Ma ci sono anche due mesi di costruzione. Certo, certo. Quello sì. Per me fanno il triplo. Sì, sì, sì. Ma hanno già avuto le immagini di The Rock al centro. Con Cody che... Con Cody che non solo completa la storia sconfiggendo Roma, ma sconfiggendo anche The Rock. Sonfiggendo la famiglia... Ma non accetterebbe nulla, secondo me. La famiglia... E non hanno già proposto. Famiglia Samoana contro il retaggio di Cody. Sono già andati a puntare lì? I Rhodes che battono la Bloodline. Anzi, qui ci sarebbe bene Dustin. Peccato che stai là. Perché se no Dustin... Però a quel punto sarebbe ancora più epico in due match separati. Sono d'accordo. Se fanno due match, io sono contento. Lo dico. Però ragazzi, due match... Io lo dicevo anche ieri con Kido che ne abbiamo parlato in live, ma secondo me due match per Roman gli devono fare la tomba. No, no, in questo caso stiamo ipotizzando due per Cody. Ah, due per Cody. No, vabbè, due per Cody potrebbe ancora... Ipotizzando Cody The Rock e Cody Roman. Secondo me però... Ingele due ma contro Reigns. Secondo me The Rock vuole interagire con il cugino. Sì, anche se... Esatto, è quello. La dinamica è quella. Ma quello che potrebbe succedere, veramente, è che magari The Rock, essendo il, cerca di mettere in difficoltà Cody. Quindi, nonostante questo, Cody vince e da lì il feud inizia a diventare lentamente The Rock Roman con The Rock che inizia a dire, ah, la nostra famiglia l'hai disonorata, hai perso contro il coglione, bla bla bla. Io ce la vedo un po' io. Dopo, però. Dopo? Sì, no, no, io ti... Io addirittura... Per me lo fanno a Vestemmenia 41. Io sono confetto che ti fanno... Ah, addirittura. Beh, sì. Questo non è un match da evento grosso e basta. Questo è proprio un match da Vestemmenia, punto. Cioè, The Rock... Il problema con The Rock è che non sai mai quando ci può essere. Perché è impegnato. È vero, è vero, è vero, però secondo me, adesso che è nel board, se programmano per Vestemmenia 41, si tiene libero per... Cioè, comunque, con un anno di anticipo, secondo me, è fattibile, eh? Sì, quello sì. Io la vedo più così. Non lo so. Io penso ad una cosa molto più semplice che tutti contro tutti. È la più semplice, effettivamente. Però è meno soddisfacente, secondo me. Ma non so. Da più a meno il Codi può sempre fare un lavoro di... Secondo me, Reigns, The Rock è meglio di te. Cioè, può sempre fare un lavoro con i due per mettere... di uno contro l'altro e mettere un po' di screzi tra i due. Quindi, quando inizierà il match, il tipo al threat, ci sarà The Rock che non sarà palesemente nella stessa strada di Reigns. Cioè, secondo me giocheranno molto su Codi e al microfono cerca di mettere discordi anche poi tra i due. Anche per la porcheria che ha fatto con Jay. o comunque quello che ha fatto in passato. Poi dobbiamo valutare anche solo cosa farà in questo match. Io leggo... Qui sarà un triple threat e poi succede di tutto. C'è l'overbooking. Sì, sì. Io leggo in chat la più semplice, ma levi a Codi tutto. Io ripeto, perché gli levi tutto? Lo fai vincere contro due... Ma io sono d'accordo, però... Se fai perdere Codi... Cioè, gli lievi qualcosa nel senso che... Ma no. No, se no, gli togli dignità. Gli togli dignità, perché il match che deve fare è quello uno a uno. Io non sono d'accordo, perché veramente se la impostano sull'onore familiare... E ripeto, The Rock ieri ha citato l'inizio della team song di Codi, eh? La stanno buttando sulla famiglia. Questo non solo vince la cintura, quindi chiudendo la storia iniziata col padre, ma dimostra anche la supremazia del suo retaggio su quello samuano. Cioè, paradossalmente è ancora meglio. È ancora più etico. Non avrebbe la vittoria uno contro uno contro Roman. Ma prima leggevo in chat... Ti dico ancora di più. Prima leggevo in chat che il triple threat spinge alle interferenze. Quindi lui vincerebbe anche contro le interferenze. Cioè, se arriva solo a rompere le palle, questo vince anche su di lui. È proprio una vittoria... È proprio quello il punto. Cioè, sai cos'è? Se mi fai il triple threat, io ho paura che venga un attimino meno tutto il discorso, finisce la storia, eccetera. Perché alla fine questo si deve mettere contro... Eh, io sono d'accordo con te. Si deve mettere... Ma quello si deve mettere contro Roman. Cioè, il punto è, non sarebbe soddisfacente quanto un match a Roman contro The Rock. È quella la sconfitta. È un'aggiunta che nell'ottica Cody Rhodes non serve a un cazzo The Rock. Ma dal momento in cui hai fatto dire quelle cose a The Rock... Sì, ma lo puoi sempre prendere un'altra occasione, magari. No, è chiaro che io vorrei... Notte 1 Cody Rock e Notte 2... Ma anche... Esatto, ma anche perché Roman e The Rock sono alleati. Sì, ho capito che sono alleati, però loro volevano fare il match uno contro l'altro. Comunque sarebbero sfidati, quindi... Loro vogliono determinare, per come l'hanno impostata ieri, chi è il capo tribù. Il capo, quindi comunque... In modo amichevole. Cody arriva a rompere le palle. E The Rock, guardate che... L'ha già presa sul personale, l'ha schiaffeggiato. E al commento hanno detto... Anche se l'avete dal punto di vista loro, infatti, la presenza di Cody nel match sporcherebbe questa loro sfida personale e... Eh, ma... Soprattutto sconca anche la... Ok, ma il pubblico a favore di Cody, quindi se ne sbatte che viene sporcata la roba Rock contro Roma. Eh, ma secondo me si sporca anche il finisce la storia di Cody, Cody. Allora, secondo me no, ma la cosa che vuoi sporcare è la fine di un regno come quello di Lanes. Cioè, di non farlo pulito contro... Però vabbè, ormai l'hanno messo... È una misura di emergenza, eh. Non volevano fare sta roba qua. No, sono d'accordo, però come misura di emergenza secondo me fai Roman contro Cody e poi vai verso quella roba di The Rock, punto. Cioè, non c'è bisogno di... Ma ripeto, tu devi per scontato che The Rock sia l'Iad Libitum. Secondo me lui aveva segnato match a WrestleMania e poi se ne sbatte le balle fino all'anno prossimo. Non lo so, non lo so. Secondo me potrebbe fare qualcosa... Altrimenti perché... A Summers deve fare Cody Rock... Altrimenti perché impuntarsi su sta roba no, no, io devo fare WrestleMania. Poteva fare Summers, poteva fare quello che voleva. Non è perché il resto è miglia, perché il resto è miglia è 40. Ma secondo me fa già capire che a lui il resto interessa relativamente. Poi dobbiamo anche capire lo stato di forma e le sue condizioni. Ricordiamoci sempre della performance con Jinder che dopo due mosse mi stavano dando la gombola. Chiaro, chiaro. Un attimo anche quello, eh. E qui è anche quello. Questa cosa proteggerà. E nel triple threat deve lottare meno. Esatto. È vero, è vero, è vero. Perché ci sono le classiche fasi quello che scompare fuori e rimane steso 20 minuti. Per me è perfetto. La fase finale Spear Rock Bottom sarà un macello. Per me è perfetto. Sarà molto, molto divertente. Però secondo me farà qualche match in più quest'anno lui. Anche due o tre, secondo me, con il fatto che io si involto direttamente nel board of the X. Anche il tag team sempre per esigenze di fiato è fattibile. Potrebbero... Allora, il problema è che c'è Rollins che è un po' spaccato perché potrebbero fare notte 1 per come l'hanno gestita Cody e Rollins contro Reigns e Rock. Così puoi anche mettere un po' di... di ass tra The Rock Eh, un po' di pepe tra The Rock e Reigns perché magari si becca al pin uno e due mi sticciano perché ovviamente nella scrittura perfetta no, dovrei metterci Triple H con Cody. Eh, beh, è chiaro. No, facevi... Anche chi dice... Perché leggo dal momento in cui Cody è intervenuto è diventato un due contro uno quindi il match a tre non ha senso. Io vi ricordo mancano due mesi che ieri in dieci minuti e io gli faccio i complimenti hanno tirato fuori una scrittura talmente raffinata da riuscire a raddrizzare una situazione di palta in cui si erano infilati. Sì, poi comunque loro volevano fare Ci sono due mesi, eh. È una sfida personale e familiare ma equa. Si sono dati la mano si sono abbracciati voglio dire, quindi... Due mesi in tempo. Anche con un sottotesto che magari The Rock pensava che così vinceva tranquillamente Sì, per intortarselo un po'. Cioè... Infatti i nervosismi tra Dwayne e Roman puoi crearli nell'arco di due mesi. Sì. Ma è benissimo direi Ah, quindi volevi andare contro... da solo contro lui perché pensavi di batterlo? Basta solo questo. Quello ci vuole veramente un attimo. Quello ci vuole un attimo. Sì, non... Non vedo il problema. Tantissima roba posso fare. Ripeto, peccato che non puoi metterci Punk di mezzo anche in questa... Oltre i Moresci di mezzo perché sarebbe perfetta. Vabbè, con Punk sarebbe stato Oro che colava. Eh, potrei fare lui e Cody contro Rock e Renzio. È riuscito essere fantastico dal tavolo di commento ieri, quindi... Adesso quando era casato quando... Non mi ha buttato via a proposito di quello che ha detto Punk sono per esempio d'accordissimo su secondo me un aspetto che dovrebbe assumere un pochino di più il personaggio di Cody pur da face però un minimo più incazzoso perché insomma lui ha detto cazzo ti fai schiaffeggiare in quel modo invece di prenderla a testate dopo che fai vai via nel backstage è andato via prima di tutti Cody addirittura prima di set e su questo ha totalmente ragione dovrebbe tirar fuori un po' di palle quadrate. E penso che sia quello a cui vogliono arrivare cioè vogliono arrivare la prestemene in cui lui poi fa fuori tutti. Sì Vi ricordo anche la tradizione Wrestlemania 20 Triple Threat Wrestlemania 30 Triple Threat Wrestlemania 40 a questo punto sì io non ci credevo l'altro giorno l'hanno dovuto raffazzonare però è poetica sì intanto ringrazio Crostatina Gioviale il nome è bellissimo è un nick bellissimo anche la foto profila anche la foto non è male boh non lo so Triple Threat ci sta per come l'avete anche detto a voi ci sta sicuramente però non è la cosa che mi soddisfa maggiormente ah ok c'era una domanda che non ha scritto poi c'è anche un'altra super chat da recuperare che non ho letto fin qui perché ci porta su altre strade ma aspettate che leggo la Crostatina a sto punto non è meglio fare Rock contro Roman notte 1 e Cody contro Roman notte 2 io dico di no per due motivi la prima Rock e Hill la seconda chi fa due match di fila di solito è Face no la terza anche ti posso dire la terza è che no la terza è che non avrebbe nessun senso perché metti che The Rock vince il titolo la sera prima Cody che va contro Roman senza titolo sì ma soprattutto quarto alla quarta ragione secondo me lo uccidi sì anche quello secondo me lo uccidi allora teoricamente no teoricamente no perché un match lo puoi bucare in tutti i modi cioè anche no vabbè lo capisco però diciamo che nelle sue condizioni di saluto non so quanto sia quanto possa giovare fare due match da main event di fila cioè in due giorni non so mi sembra un po' troppo no ma ripeto al massimo fai Cody Rock e Cody Reigns quello che fa due match al limite Cody sono d'accordissimo secondo me la prima notte fanno proprio perché hanno perso il match con Punk fanno il il tag team ma vi dirò di più secondo me se fanno il doppio match lo fanno in una notte sola addirittura fanno come Daniel Bryan primo e ultimo match aprono con Cody The Rock chi vince va nel main event e vince Cody ci sarebbe a livello di storyline come corporativo contro mi piacerebbe tanto ma secondo me The Rock sulla firma il match è anche contro Roman io voglio Roman voglio mio cugino la voglio vediamo non si non apre il paper blue lui vuole chiuderlo ma io comunque sul triple threat non si becca neanche il pin lui quindi alla fine ne esce pure in quel modo volevo rispondere a una domanda assolutamente attinente se questo un correre ripari si sapevano che la direzione doveva essere Rock contro Roman perché hanno fatto vincere la rambola Cody perché Punk non era ancora infortunato questi in una notte hanno perso Punk contro Rollins e Lesnar contro Gunter in una sola serata con intanto lo scandalo di Vince che furoreggiava da quanto sembra il venerdì mattina The Rock ha detto ci penso io vado la black adamata lui che pensa di risolvere sempre tutte le situazioni perché tanto è The Rock e attenzione perché si dice anche che potrebbe esserci stata la probabilità di Punk di vincere la rumble che è uscito quel filmato non so se l'avete visto di Punk che si rende conto di essersi rotto il braccio insomma quello che ha avuto e parla con l'arbitro a bordo ring e dicono che potrebbe aver chiamato diciamo la sua non vittoria tra virgolette perché hanno visto che era infortunato gravemente e che quindi ci fosse l'intenzione di far vincere lui io non ci credo molto però non lo so anche perché cosa fai sostituisci cioè piuttosto lo fai vincere e poi questo si è infortunato trova una soluzione perché anche un tizio prima mi ha detto no ma guarda che secondo me doveva vincere Punk la rumble e io ho pensato sì ma non puoi cambiare le sorti della rumble cioè è una cosa dirigenziale al massimo metti una pezza dopo come hanno fatto con Belor quando si era infortunato contro Rollins tanti anni fa ha vinto come doveva vincere e poi dopo il giorno dopo hanno messo una pezza sì diciamo che qui è un pochino più a lungo termine la cosa ma capisci che sono queste non sono cose che tu puoi concordare con l'arbitro queste sono cose dirigenziali non penso no 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 ma mica dico che l'ha fatto con l'arbitro l'arbitro è sempre in contatto con il backstreet sì però io non penso che una decisione del genere la prendi durante la rumble vince quello che deve vincere una volta che una volta che hai capito che è infortunato metti una pezza non che la metti durante no ma Punk doveva vincere la chamber secondo me quella era esatto Punk non doveva vincere la rumble punto cioè tanto perché anche perché tanto il match era Punk contro Rollins non fai vincere visto che abbiamo detto finora che è un titolo secondario è inutile che fai vincere Punk per andare contro Rollins quello lo fai alla chamber lo fai in altri modi non ha senso secondo me infatti per me ha vinto chi doveva vincere punto sì ma poi voglio dire avevi anche la possibilità appunto come è stato poi di far vincere la rumble back to back a Cody di fare ancora anche questo record insistevano insistevano tantissimo su quel fattore e poi era funzionale anche al personaggio di Punk perché secondo me perdeva anche contro Rollins a Mania ci stava sì sì però poi tra l'altro c'era Faglio un plauso per la prontezza perché questa cosa ha messa veramente tanto di pezza messa dopo la reazione del pubblico però loro si sono preparati già nel fine settimana perché comunque già lunedì distribuivano i foglietti che ho scritto We Want Cody e li distribuiva la WWE quindi loro già sabato e domenica dovevano deviare da quello che era successo infatti il segmento con Dream and King Tire serviva a quello perché secondo me quello che abbiamo visto ieri è la conseguenza di quel segmento lì quindi detto ciò c'era un'altra super chat che secondo me butta un'idea improbabile non trovo il senso Seth contro Rock a WrestleMania 40 ma in che modo non c'è stato niente che potesse anche solo farlo pensare secondo me no Seth contro Rock in qualche modo può arrivare ma non a WrestleMania ma non a WrestleMania no cioè nel senso per quello che abbiamo visto in questi giorni ieri e stanotte compreso non mi sembra che ci sia stata mezza cioè non c'è stato mezzo riferimento a una situazione del genere poi che posso arrivare più avanti non lo escludo ma arriva più il tag che non il match può anche darsi il tag lo vedo quasi sicuro io sinceramente sì però l'avrebbero fatto già in Imination sempre più ho parlato ho avuto un attimo un callo di connessione lo so che ne ho parlato anche con Michele Posa in settimana ha detto che per lui è un match già fatto ma per me Seth contro Drew è proprio scritto nelle stelle sì è scritto e neanche vince io ho qualcuno ora per sempre perché non so cioè sta facendo un discorso di un certo tipo e non so dove potrebbe andare se non con Gunter sì sì chi dicevi scusa sono perso un passaggio chi è che dicevi contro Gunter no no non so perché vi vedo rallentati sarà un problema mio ah Semi è streamer sì stiamo arrivando le risposte nostre arrivano in ritardo da quello che sto sentendo no no io adesso sì a quel punto Semi diciamo che per quello che ha raccontato ci starebbe una bella sfida contro Gunter perché comunque sta facendo quello un pochino bastonato un po' depresso un po' così e dice che una vittoria contro Gunter potrebbe risollevarlo poi magari perde ed è ancora meglio per risollevarlo dopo media sì sì potrebbe essere un bel match solo Goldberg ma no ma no ragazzi vi dico questo no ma paradossalmente se veramente vuole tornare Goldberg guardate che lo mandano contro Gunter segnate perché questo doveva andare contro Lesnar a livello di match e quello è il sostituto secondo me non c'è Goldberg ma se vogliono mandalo contro Gunter che minchia lo crepa da mazzata e abbiamo fatto bingo sì ma diventa però come dico sempre diventa ma niente a merda Goldberg a casa ma infatti chi lo vuole io sì vedo io comunque continuo a vedere io provo a rientrare qui su Streamyard perché continuo a vedere io non sto parlando perché ci sono un problema mio però per sicurezza no non usciamo tutti a me però adesso fa Kirio uscita rientrata altrimenti rimane la diretta forse Streamyard forse Streamyard ma sì mi sembra molto strano anche perché se colpisce tutti vuol dire che è una cosa abbastanza generalizzata vuol dire che Streamyard sì 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 del fulcro della discussione Kirio l'ha fatto ok noi tre eravamo abbastanza sincronizzati io Vittor adesso penso che sia a posto perché c'è stato un momento in cui io vedevo il direttore fuori sincrono comunque sì Breaker ci starebbe anche contro Gunter perché effettivamente sono stato un po' contentendo sì secondo me anche perché anche perché credo che la direzione sia quella su Breaker secondo me lui a meno che non vuoi lo campollo no ma poi no io e Logan Paul sono convintissimo che vada contro Elaine Knight già da stasera sì infatti stanotte vediamo cosa fanno adesso capire un attimino se volete farlo di nuovo Owens dici? ma Owens magari allora e poi esatto ci avrei creduto anch'io però stanno annunciando la puntata di SmackDown con il nuovo sfidante di Logan Paul nuovo vuoi sempre giocartela con è ancora lui Oldies deve Oldies deve dirlo stasera in effetti c'è proprio la se vedevate il promo di SmackDown c'era la grafica con silhouette di domanda chi va contro Logan e siccome settimana scorsa sono stati assenti AJ Styles Randy ed LA Knight quasi con l'intento di fare le resettone per me va LA Knight secondo me secondo me annunciano LA Knight ma si mette in mezzo Horton e se la giocano facendo magari o un mini torneo o un match per decidere effettivamente chi andrà contro Logan Paul e secondo me alla fine ci va LA Knight si esatto non se la giocano anche perché comunque è la rivalità che c'è in queste settimane loro tre che si contendono io leggo su cosa fanno è vero leggevo su cosa fanno la chamber maschile quest'anno secondo me non c'è la chamber maschile quest'anno no per il titolo di set eh sì ma non hanno minimamente costruito la cosa fin qui eh perché adesso aspetta ci sono due settimane vabbè no fai un segmento a Raw e basta cioè cosa cambia fai i match di qualificazione figurati però non puoi non puoi mandare il punto è chi gli mandi allora o la fai su quello o la fai anche per il titolo intercontinentale di Gunther anche sì ci metti Breaker e altri e la fai per il titolo intercontinentale ma io sono d'accordo con voi però veramente finora non l'hanno mai menzionata ma neanche c'è da dire che comunque entrano 4-5 persone a dire lo sfido io c'è da dire che lunedì scorso hanno fatto per la chamber femminile nonostante fossimo a due settimane e mezzo va bene però se Drew sa che esiste la chamber non la nomina lunedì non dice nulla ma strano ma l'abbiamo aspettato proprio perché non era chiaro esatto nella situazione ancora nel caso nel caso è per il titolo di Rollins ma non a quel punto fai Drew vs Rollins secondo me a quel punto potrebbero potrebbero iniziare anche stasera a Smackdown perché magari ci mettono è vero anche perché comunque settimana scorsa c'erano persone del roster di Raw a Smackdown di Smackdown al roster di Raw quindi magari io la vorrei però però anche ieri a livello di annunci hanno rilanciato ancora una volta la chamber femminile perché stasera c'è chissà chi vincerà Bianca Belair contro la Pizzi a Lidia Gistani Mijin mamma mia è stato lo stesso commento quando ho visto il match inaspettato come incontro non hanno parlato degli uomini però secondo me non hanno parlato degli uomini perché la priorità era risolvere la situazione eh sì questi non ancora sapevano se erano per Rollins o no finché non sapevano che cazzo fare con quella situazione secondo me non aveva senso sì non sapevano ancora contro chi andava a Cody anche questo è vero però volendo una Rumble potevi già allestirla dicendo chi vince va contro l'altro ma sai cos'è il problema è che secondo me avrebbero dato l'impressione di starsene sbattendo i coglioni del casino che avevano combinato esatto tanto voglio dire se anche lo annunci una settimana prima non penso che a qualcuno gliene fredda un cazzo è proprio per un concentrarsi meglio sulle varie cose singolarmente però gli farei l'applauso per come abbiano gestito una crisi abbastanza potente in maniera non proprio perfetta perché comunque ancora non tornano molte cose a livello di storyline però diciamo che non è la pezza peggiore del buco hanno fatto molte più cagate in WT in passato direi che questa non ci senta bene anche prima in chat in chat leggevo ma non torna la frase di Cody secondo me nel momento in cui dichiari The Rock fa parte della dirigenza Cody può fare il promo ho ricevuto pressioni dell'alto mi hanno costretto lui ha già detto che The Rock li ha parlato privatamente non si sa cosa gli è stato detto quindi ha detto che doveva andare lui perché non è un problema può essere anche una reazione alla prepotenza che questo arriva decido io ma che cazzo decidi tu ho fatto la Humble e poi soprattutto c'è tutta la cioè secondo me punteranno tanto sul fatto che Drew McIntyre gli ha parlato ha parlato come ha detto Mike in privato con altri ha cambiato idea perché si è reso contro di aver fatto la cazzata possono anche dire che ha parlato con Punk esatto non c'è bisogno non c'era anche tutto questo bisogno di dargli un grande senso cioè perché comunque le persone possono cambiare idea sappiamo che il cambio di idea deriva dal fatto che non era quello che volevano fare inizialmente ma si sono cagati sotto perché la gente li stava ammazzando sono stati bravissimi a far finta che questa cosa cioè hanno preso lo sdegno del pubblico e lo hanno utilizzato per ma leggo il personaggio che non molla mai riceve pressioni dall'alto e sta zitto e non dice nulla e ieri cosa ha fatto? mi sembra non sia stato zitto no infatti 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 è vero che è il personaggio che non molla mai però è anche il personaggio tutto precisino perfettino che fa comunque le cose per il bene dell'azienda ma abbiamo visto cose molto più improbabili cioè lui potrebbe avere inizialmente fatto quello per il bene dell'azienda perché pensava davvero che fosse una cosa giusta sì ma ve la scrivi in due secondi The Rock mi ha chiesto di fare il match era The Rock un wrestler rispettato mi sono lasciato convincere poi ho visto la vostra reazione ho visto il modo in cui Dwayne vi ha trattato e allora mi sono detto no avete ragione devo completare la storia la storia di Punk tante cose puoi dire ma poi ma poi ma le aveva messo sicuramente sull'amichevole non le aveva detto guarda che se non mi dai il match con Reigns no ma poi ma poi in cose puntano sempre sul fatto che è una persona molto umana che fa gli errori quindi in realtà ci sta da persona umana ha fatto uno sbaglio si è fatto convincere da The Rock la metti giù così e poi si è reso conto che in realtà questi sono che per sentire il cazzo e basta non c'è bisogno veramente abbiamo assistito a cose ben peggiori va bene che ci appassioniamo ma è comunque il wrestling non è Shakespeare ogni tanto farsi la mano diciamo che stavolta stavolta sono riusciti a sorprendere in più di un'occasione con questa sono d'accordo no per me sono stati bravissimi a me si vede pronti ad agire subito sai cosa alla fine ci hanno dato qualcosa di cui parlare ci hanno ci hanno messo in culo perché nessuno si aspettava quella cosa poi si sono tornati sui loro passi però abbiamo avuto una settimana bella piena più che altro ovviamente non è stato voluto ma un match che era lineare Cody contro Roman è diventato combattuto e sudato è cioè è quello di cui parlavamo settimana scorsa che il problema è stato necessario è vero adesso è stato necessario lottare per avere quella cosa e per me non sarà neanche pura come il risultato non cambia perché il risultato non cambia alla fine però invece di avere la classica rotto resta in menia lineare sì che ti entusiasmi però non ci sono sorprese stavolta è diobono cioè bello che abbiamo fatto la puntata di venerdì dicendo questa cosa qui e poche ore dopo è successo quel casino io quando l'ho vista ho detto ma non è possibile penso che nessuno se lo sarebbe mai aspettato un twist del genere poi sì è stato un twist inutile siamo d'accordo però comunque c'è stato e per quei sei giorni ce la siamo goduta si vede che non c'è più Vince io sono abbastanza d'accordo che si veda se no sarebbe rimasto quello il match fine a me non è mai anche se quando c'era Vince poi sono comunque arrivati a Brian campione quindi non è sì ma lì secondo me gli hanno puntato il fucile senti erano per il coglione battarpa una trombata ne ero per il caso eh che esatto meglio di no però Chirio è molto meglio di no io eviterei era l'unico modo l'unico modo con il consenso magari 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 dopo ore pasti che schifo porca puttana cioè veramente mamma ma poi non è neanche una roba successa sai che dici tipo quando era giovane no pure adesso l'immagine è ancora peggio capito già fa schifo così ma l'immagine è ancora peggio con questi muscoli cadenti non che se fosse stato più giovane sarebbe stato accettabile però era un'immagine orribile ma così è ancora peggio capito che schifo vabbè vabbè allora un po' di domande del pubblico dai divertiamoci insieme ci sono state tante super chat vi ringrazio per questo direi che la rubrica funziona mi sembra ogni settimana ci sono sempre più spettatori quindi grazie a tutti a me spiace da un lato spiace perché mi divertivo un sacco vedere vecchi match però effettivamente è così anche perché youtube italia ci sono canali come quello di max e di altri che comunque portano però non ci sono tanti show di discussione in effetti quindi su youtube italia di canali che fanno ce ne sono però cose così frequenti non ce ne sono no ce ne sono ma purtroppo sono piccolini e meriterebbero un po' più di visibilità c'è max c'è certified y che è bravissimo secondo me anche lui quindi ma diciamo che noi ci stiamo preparando per essere assunti da netflix quando vorrà fare un approfondimento sul brent magari magari allora la toto all of fame mi sembra molto complicata l'unico garantito è bray wyatt ah beh sì sì assoluto io ci metterei anche brodi a questo punto eh ah in effetti non lo fa piangere meno male che non faccio la diretta cioè o li metti insieme no vabbè comunque sbaglio ieri l'hanno anche citato mi sembra forse ne ha parlato biggie biggie quando parlava di di Cody tipo che era un personaggio molto rispettabile amato da tutti perché anche quando morì i brodi appunto infatti lui portò il figlio in EW piaceva tutta questa serata tributo e ha aiutato molto la moglie e la famiglia sì 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 c'è chi sostiene Battista in effetti se ne è sentito parlare però è stato un po' forse tanto distaccato Battista ultimamente anche con quello che disse non mi ricordo cosa ultimamente ma secondo voi lo inseriranno entro qualche anno Paul Heyman la Hall of Fame o aspettano quest'anno però è Filadelfia quest'anno è quello per cui ho capito ma il manager Hill secondo me nella in effetti vai un attimino nell'acclamazione popolare no esatto perché se lo meriterebbe io fossi lui lo fossi loro lo farebbe ma ci finisce dai prima o poi per forza magari ci metti qualche wrestler dell'ACW quest'anno io spero che vada avanti fino a 80 anni perché tanto comunque non è che combatti è bravissimo non vedo perché no e che non mi ricordo neanche quali sono quelli assenti molto popolari che non ci sono mai era Van Damme mesi fa è morto Iron Sheik però era già un Hall of Famer da tanti anni dal 2005 quindi ci potrebbero mettere Tommy Dreamer ci potrebbero mettere Sandman delle ACW ah è vero si diceva Sandman come rappresentanti ACW Sandman ci potrebbe stare sono d'accordo immagino il discorso di Sandman anche John Cena mi dice gioiere gioiere troppo presto 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 sì sì presto deve ancora completare con la storia del continuo a perdere ah quello è vero ragazzi Christian e Big Show è impossibile sono un altro un altro punto diverso chi lo sta per altre federazioni anzi ieri nel video recap mi ha stupito vedere Daniel Bryan anche Sasha ma stanno comunque cioè allora dieci anni fa una cosa del genere sarebbe stata impossibile hanno fatto dei piccolissimi passi io mi ricordo tutto da quando Cartangle nominò la TNA con quel promo insieme a Kevin Owens e Sammy Zane che gli dice ragazzi se non sapete dove andare la TNA sta cercando atleti da quel momento in poi poi ricordatevi anche che non potete inserire troppi ingressi forti in un anno bisogna spalmarli e per me già la componente Bray Wyatt è molto forte perché è memoriale quindi credo sia il piatto principale gli altri devono essere di caratura inferiore passatemi il termine diciamo che ce ne può stare uno di caratura uguale secondo me media uno però sì perché lui non c'è purtroppo fisicamente per avere una presenza fisica infatti un battista secondo me se volesse sarebbe valido gli altri devono essere leggermente più anche un battista non mi sembra più molto dell'idea quindi se lo facessero non sono convinto che presenzierebbe io si è voluto staccare più possibile quindi non lo so però prima o poi lo infilano dai lo infilano però se l'ottica è di infilarlo per averlo in presenza cioè io non penso che andrebbe non ho questa lui non vuole più essere associato quello quindi lo puoi mettere ma non so se ti va cioè se va lì no ma anche Triple H che si auto inserisce ma no Triple H magari sì tra un bel polo lo mettono continuo a leggere Big E ragazzi prima aspettano di capire se sto povero Cristiano riesce ancora a lottare o no anche perché già devo piangere Wyatt mi fa piangere proprio doppio ieri ha detto che stava bene comunque sì infatti ieri ha detto mi sento bene continua a parlare di un match con l'Imperium continua a mettermi magari magari tra l'altro qualcuno suggerisce Vince McMahon Sì sì sono d'accordo visto che non sai cosa far fare a Gunter a Brestelmania il match tra i contro tre sarebbe preciso no ma dai un match in singola a Gunter farglielo fare eh no allora però sì sono d'accordo però se deve essere un match fatto a caso a quel punto ma si scrive da solo B contro quello è vero proprio palese dal momento in cui Jay perderà per colpa di Jimmy New Day rimarrà da solo io ragazzi eviterei di citare qualsiasi membro della famiglia McMahon anche Shane non lo fanno non lo fanno si aspetta minimo dieci anni guardate minimo perché tanto poi ci sarà la rivalutazione in dubbio aspettate rivalutazione non lo so però no magari diranno povero vecchio ha sbagliato ha pagato secondo me arriva la rivalutazione sai che sia quando arriva quando stira le zampe eh eh sì hai ragione anche tu quando stira le zampe era tanto un bravo vecchietto è che lui era incontinente poverino non è quello che pensate queste cose qua hai ragione anche tu era un suo modo per esprimere amore sì sì quando esce il documentario su Vince su Netflix ottima domanda non mi stupirebbe se non uscisse mai eh vi vorrei ricordare che sono gli stessi che a un certo punto in alcuni paesi dopo lo scandalo di Kevin Spacey hanno aggiornato la locandina di House of Cards con una banda nera sugli occhi di Kevin Spacey no almeno non esce più no no però è per dire che sono sempre cioè da gente che fa una roba del genere non mi aspetto che il oppure guarda lo lo pubblicano ma con tutte le scene con Vince McMahon con la faccia oscurata con i sì 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 con la scena sapete chi non hanno inserito nell'All of Fame che sarebbe interessante i Demolition eh vero però non lo so eh beh non è per me non capisco perché non ci sono ma ci sarebbe ma un altro come cazzo è possibile che non li abbiano ancora messi c'è di peggio strano sono diventati controversi stanno sulle balle no non credo non ho mai sentito nulla di controverso su di loro sinceramente però ci hanno messo i peggio Sony e non ci hanno messo loro eh infatti ci sono ci hanno dato la precedenza ai Legion of Doom carità dicono che i Demolition sono in causa in che senso in causa ah non lo so eh perché forse qualcosina c'è ma non so non c'è allora no allora non credo cos'è che è successo che uno di due deve un certo allora no ok ve l'ho detto che c'era qualcosina sotto perché c'era un motivo ok minchia è vero peccato per l'Aurinatis che è pure lui un porco maledetto se no facevano facevano questo team thank you for this all of fame i Dudley Boys ci sono e come certo sì 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 io lo darei Pretty Deadly sulla fiducia anch'io ma sì dai io li amo io li amo io adoro il petto villoso di Elton è fantastico questa Davide il fatto che tu chieda se i Von Eric sono nell'Holo of Fame fa capire che non hai visto il film ci sono tutti dal primo all'ultimo ci manca solo che non li metti ecco però io sul film tu hai detto una cosa effettivamente giusta che il film non ti dà la dimensione di quanto fossero famosi sembra quasi che in realtà erano stra famosi i Von Eric quindi sembra che combattano sempre nello scantinato sì no allora in realtà in realtà cerca di dirtelo tipo quando sono a pranzo loro due lui e Lily James che lei dice ma ti fermano sempre così e lei dice eh sì qua il tizio il fratello che dice che in Giappone l'hanno fermato pensando fosse Kevin però secondo me non è mostrato abbastanza bene ma più che altro se vedete se vedete l'episodio di Dark Side of the Ring il povero Kevin Kevin il sopravvissuto a un certo punto pensa di farla finita quindi va in questo negozio di armi e fa per rubare un fucile il proprietario lo riconosce e gli dice Kevin ti vogliamo bene per farvi capire quanto fossero conosciuti e quel fatto lo induce a riconsegnare l'arma e andarsene sì e infatti lui diventa tipo un mezzo in ritiro spirituale sì sì con le uche con i piedi nudi con infatti se vedete il documentario non sta troppo bene no beh allora c'è da dire una cosa che in realtà sono solo le card alla fine che ti fanno capire che ti dicono che lui sta bene eccetera però il finale del film non è che lui sia proprio io non l'ho ancora visto purtroppo no 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 non ti dico niente però il finale del film non è che ti fa vedere che lui è proprio questa Pasqua infinita no no ma è compensibile va sopra l'albero poi è ovvio che nelle card finale non potrebbero dirti Kevin è depresso e pensa di far finito ogni giorno no no ci mancherebbe addirittura il padre gli ha puntato la pistola contro cioè guardatela quella ragazzi ma ci mancherebbe altro uno che si vede morì tutti i fratelli in quel modo tra l'altro nel film ricordiamo sempre che è nato altro uno quindi se ne hai visti morire sì ce n'è uno estromesso dal film io ho saputo che viene spesso viene spesso estromesso dai racconti non solo nel film ma perché non era era quello più scarso va bene ho capito però è è una persona morta nel senso non è che si misura il valore da quante porte nel senso che non viene ricordato come uno no ok però comunque c'è comunque la persona morta poverino intanto io sto controllando delle cose perché sono sono molto curioso ma ragazzi ma rendi savage nella holofence perché in chat leggevo dipende dei rapporti fra la wwe e lottatori non hanno mai messo british bulldog o matchman ma matchman c'è si che c'è ma addirittura ha introdotto il fratello si sono arrivati a mettere Bruno San Martino figuriamoci loro vorrebbero mettere Owen Hart da una vita e della famiglia che glielo vieta quindi figuratevi anche perché è leggermente morto un po' per colpa loro insomma potrei capire ci siamo un po' nella presa per il culo capito probabilmente sarebbe un riconoscere comunque ok però io capisco che la sicurezza una volta non è ma anche british bulldog è dentro si 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 ma io sto facendo delle ricerche un po' approssimative su google ma c'è aspetta aspetta vediamo vediamo se c'è chi dico io chi stai cercando aspetta beh sicuramente c'è anche una donna comunque penso allora sarebbe assolutamente spendibile miss elisabeth il problema è che un'altra ha passata miglior vita quindi diventa veramente l'holo fame del pianto poi ci avevo cercato se anche junkyard dog lo fosse ma è stato inserito dopo la morte e se no sarebbe stato un bel momento non spammate però sto cavolo di hbk secondo me finché sono coinvolti così tanto a livello dirigenziale on screen evitano a sensazione chiedono se c'è l'ex luger l'ex luger no ma poi perché spammava hbk il tipo che c'è non c'è hbk nell'all of fame che sta dicendo sai che non lo so ma certo che c'è hbk nell'all of fame anche secondo me c'è ma ci sarà anche un paio di volte una volta con la di x avete voglia sia con la di x che in singolo perciò lo scrive un zacco di volte perché è tutte le volte qui e i geli è interessante perché ieri l'hanno nominata è molto interessante sì non sarebbe anche perché non abbiamo fatto molti nomi femminili infatti dicevo uno ci deve essere secondo me una donna e magari fa parte dell'accordo punk metterla in in all of fame ci mettiamo la bollettina nell'all of fame per quello che è una delle più importanti per l'avvianza revolution forse è la più importante ma una domanda The Fabulous Mula prima della morte o dopo la morte prima degli scandali era stata messa? mi sembra di sì 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 che poi prima degli scandali tra virgolette gli scandali si sapevano già da prima solo che li ignoravano sì sì anzi è stata la prima donna ad essere inserita nell'all of fame ok è vero Kirio però in realtà gli scandali quelli grossi sono arrivati più che altro dopo cioè perché comunque al grande pubblico sono usciti io quando parlo di scandali ti parlo di scandali su opinione pubblica perché finché non vanno la opinione pubblica se ne fottono sempre per chi dice in chat sia Trish che Lita ci sono cercare di su Google ragazzi non è difficile ma non c'è bisogno di cercare su Google basta aver visto negli ultimi mesi perché quando c'era la faida contro Becky Lynch lo diceva di continuo che era l'all of fame ma certo giustamente Santino è in TNA ma loro sono abbastanza amichevoli con la TNA in questo momento quello è vero Santino si fa tipo il manager tipo è un manager in TNA quindi allora mettiamoci Dolph Diggler a questo punto ragazzi il pirata Borchil non ci entrerà mai ma mai mai va bene che inseriscono chiunque però c'è anche un limite per quanto potessi volerli bene vabbè dai basta siamo penso di sì aspetta ce n'è uno troppo monodirezionali no Ashley Massaro no anche perché era coinvolta pure lei gli Steiner nel 2022 quindi due anni fa sì ma ci sono tutti ragazzi ne mancano pochi di grossi Natalia dicono ma no matta ancora è presto è presto magari non ho l'offen per i pirati in effetti potrebbero istituire questa branca c'è Sting che è diventato campione di coppia dopo quasi 15 anni che non vinceva un titolo il mio problema è che non ho tempo per seguire pedissequamente anche la EW ci provo ogni tanto qualche match lo vedo e a livello lottato sono incredibili incredibili io per più me li guardo però è Sting allora io non ho visto Dynamite perché credo sia successo Dynamite quindi non ho ancora recuperato la puntata so che doveva fare il match con Darby Allin quindi ah quindi perdonami se ti ho rovinato l'episodio no no anche io ho già visto la foto di lui con la cintura ti dico una cosa mi incazzo se mi dicono cosa sulla WWE ma lei EW non riuscendo la seguire sempre cioè la seguo abbastanza però magari a volte mi perde le match quindi non è un grosso problema se mi fanno spoiler mi cazzo un attimo di più adesso ho iniziato a riseguire un po' di più anche a NXT perché dopo Vengeance Day non so se l'hai recuperato ma insomma sì ve l'avevo detto di Carmelo no no ascolta però attenzione quello era ovvio però il match tra Triquilliams e Ilya Dragunov è una roba mostruosa io buono anche il match tra Dijak come si chiama a Gioghese è stato molto divertente io giuro io giuro che se Dragunov va nei roster principali e lo sprecano mi incazzo come una iena comincia a incazzarti lo so lo so sai cosa secondo me ancora aspettano perché al momento allora se perdono non sanno dove non possono perdere non possono perdere Carmelo Triquilliams lì Dragunov ma come mi fomenta quell'uomo lì nessuno è più che altro perché poi tra l'altro è un russo veramente lui quindi non è che fa uno che fa sono un mark di merda di Dragunov va bene poi tra l'altro ecco tu parlavi del lottato dell'AW NXT effettivamente ti dà un lottato che non dico che è proprio quei livelli però insomma il match tra Triquilliams e Dragunov è già più in zona AW NXT come lottato è quasi sempre superiore a Royce è che bocciano un po' perché sono ancora inesperti rispetto ai grandi vi consiglio di questa settimana il match di coppia iniziale molto bene quello Corbin come si chiama l'altro no no quello di ah scusa tu parli della puntata di martedì si del settimanale non l'ho ancora visto vi consiglio il match di coppia iniziale ok fu un ambolico eh ma perché poi sono più liberi hanno meno vincoli hanno anche meno impegni cioè quelli del Mer Roaster devono fare un sacco di show che si devono un po' presa al male però a me i preview che hanno fatto gli ultimi mesi di NXT mi sono piaciuti un sacco sono proprio belli quindi niente da dire ma Ron Corbin per me non lo riportano mai nel Mer Roaster mai ma non funzionava paradossalmente NXT funziona bene si è vero hanno trovato la sua dimensione con Breaker adesso gliel'hanno tolto potenzialmente avevano provato a fare quella roba poco tempo fa con JBL che però addirittura lo tifano Corbin a NXT stiamo parlando si sono anche in 12 nel pubblico però ho capito però sono appassionati si si usano come tweener lì ma poi comunque hanno anche dei lottatori anche la Stratton a me piace un sacco comunque ormai si ha firmato eh ormai si secondo me era un po' presto io l'ho lasciata ancora un pochino a NXT onestamente io solamente riporterei gente del Mer Roaster là tipo anche la Mincino io la riporterei Rigialli ritornato a NXT sì sì ma anche delle lottatrici io tipo la Xayali e la Mincino io la riporterei a NXT magari devi provare a ricostruire riprovare ad un'altra una che sta funzionando è Kairi Sen alla fine ma sì la ritenzione della stable ci sta sì 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 beh leggo che i match di NXT sono più credibili rispetto alla EW lì non sellano mai ripeto guardate il match di coppia di martedì non hanno venduto scusate non so è andata bene così avete mai avuto avete mai avuto avete mai dato un'occhiata parlo più che altro dalla chat alla storia della family di Tony Di Angelo di credibile non c'è molto ci sono loro ci sono loro che vengono filmati mentre mettono i cadaveri nel bagagliaio e la cosa bella è che sono face sono buoni eh c'è stato il promo qualche settimana fa perché adesso c'è una manager la cugina mai vista prima le dicevano no no devi essere combattiva nella battle royale ah come come quando picchiavo le sorelle fettuccine adesso non mi ricordo come si chiamassero a scuola e loro si 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 esatto come quando abbiamo buttato quel tizio dal ponte loro no 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 quella roba lì no ci sono si ci sono loro magari nel ristorante che discutono di come ammazzare quello della famiglia di arrivare come possiamo sono i grassi questi io mi ricordo ancora mesi fa tutta quella storia che si svolgeva nella stanza degli interrogatori dove a un certo punto pestavano a sangue uno e questi sono i face è bellissimo sì sì ma vengeance hanno fatto gli italo americani contro la gang di gta san andreas sì come si chiamano i oddio non mi viene il nome come si chiama la stable odm perché non ha sigla esatto sono direttamente da gta san andreas però a me divertono non so mi fanno ridere ma anch'io gli voglio gli otm gli voglio bene titoli di coppia cosa vedete nel futuro ma intendi roster principale suppongo demise artruth anch'io ma sicuro come loro che vincono a menia sì secondo me a menia a questo punto dai dai cioè dai un traguardo a tutti i loro premi e tra l'altro damian priest sempre più indeciso perché lui lui picchia truce solo perché lo vuole solo perché lo vogliono i compagni ma lui in realtà si vede che gli vuole bene artruth non lo vuole picchiare quindi c'è questa cosa che anche non riesce a odiarlo è vero come cazzo fai io giuro quando jd mcdonough vincerà un match farò la ola nudo è un jobber porca vacca è un jobber non c'è un cazzo da fare è neanche bravo però in realtà non è fatto male come breast onestamente io penso che ha questo gimmick da cattivo patetico che è tra l'altro è dentro al judgment day ufficialmente ma non è sulle magliette questa cosa è fantastica quindi capito c'è artruth c'è artruth esatto no ma perché comunque io penso che non abbia uno star power sufficiente a fare più di quello che sta facendo al momento al momento più di quello anche perché come luttatore è anche bravo però come come carisma ma secondo me mi serve una bella faida con balor poi dopo la rottura del judgment day io nasca un po' come maestro e allievo io ce lo vedo di più in coppia con dominic perché comunque se tu guardi è vero che lui è il protetto di balor però sembra sempre che abbia più sintonia con con dom perché sono anche sono più giovani esatto secondo me lo può lanciare un pochino è quella con balor però sì però secondo me quando si spacca il judgment day nella faida si mette anche dom a protezione di jd io sono secondo me poi fanno una sorta di tag team io leggo vittoria di mese truth vuol dire che il judgment day vale meno di zero come stable scusa mese è uno che ha vinto qualsiasi cosa our truth è al ruolo dell'idiota però quando lotta ci sa fare e comunque la dovrai far terminare sta stable dovrai cominciare a creare poi scusate ma sarebbe come dice lui se loro in coppia facessero le figure dei cacciottari ma sono fortissime ma è vero in ogni caso ma non è assolutamente un job our truth a questo punto ma proprio no anzi lui sta facendo la figura di quello di quello che nonostante sia scemo li batte sempre vince quasi sempre a parte una volta che è intervenuto priest ma poi a wrestlemania non avete mai visto un match comedy ragazzi ma daniel bryan contro shimus finito in 18 secondi daniel bryan rimane uno dei presti migliori dell'universo solo che in quel momento lo caratterizzavano come una pippa sfigata che poi ripeto artruth non è neanche contro joy in oxville vero vero artruth non è comunque una pippa sfigata tra l'altro anzi perché comunque quando ha lottato quelle volte con jd mcdonald anzi il fatto che faccia così l'idiota rende ancora più stupefacente il modo in cui combatte perché christ è forte e soprattutto è agilissimo fa una bella figura quando combatte artruth e ha 52 anni vabbè non me lo ricordare perché christ io non so poleyman ne ha 58 e sembra suo nonno esatto quindi cioè quando fa le spaccate per evitare i colpi guarda che è interessante ma poi è anche una bella storia si riformano gli awesome truth lui finalmente capisce che il giardino non l'ha mai voluto la sua famiglia sì 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 tolgono le cinture al judgment day cosa che provoca delle frizioni è tutto perfetto ma i judgment day finiscono a resta e menia io penso che dopo a resta e menia succeda le patatrac a resta e menia perdono tutti e secondo me fallisce anche l'incasso sì 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 cioè a resta e menia crolla tutto cioè perdono tutti i titoli perde anche la valigetta e arrivano a raw con le ossa rotte siccome è già dopo la prima puntata di raw dopo a resta e menia anche se in realtà col discorso che stai facendo con McIntyre che lui vince ma c'è sempre qualcuno che vi dico vi dico di più notte 1 ok perdono le cinture Damien e Finn il main event credo sarà set contro Drew o chi per adesso a prescindere da chi vince arriva Damien con la valigia arriva Finn e lo cartella sì ma dopo che ha provato l'incasso dopo si si incassa il match ufficiale arriva Finn che lo butta in squalifica io ci vedo una cosa come Drew che sta per intervenire perché ha appena perso e viene interrotto dall'intervento di Belor secondo me quello che volete comunque ma ci fanno credere che sta per intervenire per interferire Drew McIntyre e poi arriva la sorpresa a Finn Belor che lo ria perde perché Becky sta perdendo troppo e sta veramente creando la rivalza a Wrestlemania ma ripeto e da un anno che è campionessa ma poi la devono fare face per fare la face delle perdere di vita sì 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 anche ieri la conferenza stampa l'hanno tifata come sì cioè sembra una rock star non ha più senso come il non vuol dire nulla paradossalmente per la distruzione del Judgment Day potrebbe anche non perdere perché secondo me darebbe ancora più spazio agli altri per litigare il fatto che rimane l'unica campionella potresti fare via che se ne va perché dice guarda voi siete dei perdenti no no ma guarda vi faccio vi faccio la predizione vince Becky e Ria le stringe la mano sì sì siccome diventa face da lì e le frizioni iniziano perché lei non si sente più di stare nel Judgment Day il fatto è che non puoi fare troppi cambi di tolati secondo me perché veramente cioè per come la stavamo mettendo cambiano tutti i titoli tranne quello di Gunter rimane Gunter e secondo me puoi anche fargliela menare con sto fatto o io Sky vince o io Sky vince e poi continuano dopo non credo secondo me no però secondo me è più problemi che Mantengaria però sì 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 sicuramente secondo me io non ce la vedo che la mantenerlo cioè io penso che debbano un attimino cioè il problema che per esempio Becky perde ancora la miseria ma però vincere banalmente potrebbe anche vincere poi Becky il giorno dopo sì 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 giusto eh ho capito però dai considera anche che in quel periodo poco prima della menia a Becky esce il libro se non sbaglio quindi c'è anche questa la stanno anche spingendo come personaggio secondo me anche solo per pompare le vendite del libro dire che il libro dell'attuale campionessa sembra stronzata ma loro loro al business no no lo fanno ma è vero piuttosto mantiene io Sky uno dei due rimane con l'intervento delle Kabuki Warriors io ovvio in una maniera sporchissima sì perché io Sky comunque il personaggio è che è una pippa cioè l'idea che non è forte no sì lei non lo è nella realtà è brava a lottare però il senso è che senza le altre lei è una pippa e lo so infatti quando quando Bailey settimana scorsa ha tubato le altre col pipe lei si stava cagando sotto fortissimo perché non era in difesa quindi sì 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 ci sta se vince vince sporchissimo non può vincere pulito è impossibile poi puoi giocare qualcosa da coda ci puoi mettere da coda di mezzo che magari gli fa credere prima che chieda la parte sua e poi tra l'altro non abbiamo parlato di quel segmento a me è piaciuto molto il segmento del turn phase di Bailey è stato fatto molto bene è stato totalmente oscurato dal re nel mio cuore nel mio cuore è rimasto io ne ho pensato a me è piaciuto se ci fai caso non c'era neanche ieri Bailey per esempio era l'unico match che ho già annunciato essenzialmente è un gran bel match a questo punto per quello che capisco che doveva pubblicizzare il suo programma però avrei preferito Bailey a posto di Bianca io non ho supporto bianca che ha chiamato Yosuke Yoshirai è vero da un attacco di bambini così ci fanno finiscano di cambiare questi cazzo di nomi c'è anche da dire che io lo show non l'ho ancora visto quello con Montesford ma non ho capito il senso tra tutte le cose che potevano fare ti puntò da Divas secondo me ho capito sì no no certo però con tutti i wrestler che hai proprio quella roba lì cioè non potevamo farlo in un altro fa un po' cagare come concept magari poi è bellissimo non ho ancora visto non so se arriverà mai da noi perché è di Hulu quindi se arriva arriva su Star però anche se non arriva non piango no però mi farebbe piacere vederlo ti dico la verità è il nostro target però secondo me loro sono bravi cioè loro sono due tattili possono essere delle cose interessanti anche in quei programmi io mi ricordo Total Bellas a volte quando c'era Danny Bryan e John Cena eh uscirono comunque la fine se per la roba su wrestling io le guardo tutte quindi a me sembra così scontato che la replay perda ragazzi anche per me mi sembra veramente scontatissimo devono fare un rebrand e per fare il rebrand secondo me non ha senso tenere la cintura poi l'unica soddisfazione che Becky ha avuto due soddisfazioni negli ultimi mesi che è stato sconfigge Trish Stratus e quella c'è stata con lei che aveva la fronte a un certo punto leggermente prominente per le botte e poi l'NXT Champion però vabbè quella più se vince la chamber batte tutte le altre quindi se pensate alla tipica costruzione ha perso la cintura di NXT e vabbè da quel momento ha perso praticamente quasi sempre addirittura contro Naya Jax ok hanno deciso di farla perdere con Naya Jax c'è Ria che continua a provocarla eh non stai vincendo una mazza eh non ha vinto la rumble il femminile vince la chamber e vince a Mania Ria è brutto da dire ma non ha più una mazza da fare cioè se sconfigge Becky dobbiamo aspettare Jade Cargill ce ne vuole un pochino però non la porti a Mania no a parte che Jade Cargill secondo me la portano la portano contro con Bianca no Bianca cioè secondo me anche proprio fisicamente per come sono a livello strutturale è un match che io vedo molto cioè che sono comunque tutte e due belle muscolose poi come dicevamo ha senso per la questione del judgment day ha senso per proporla come face perché da Hill non certo poi adesso la faranno le faranno dire qualcosa contro Becky e la famiglia e Seth l'hanno già improntata sul rispetto l'hanno già improntata sul rispetto con quel segmento tra l'altro dicono se Ria perde turn significa speak on Dome il turn di Dome è ancora per la tua secondo me se si molla con Ria la Roma rimane stronzo più che altro diventa più stronzo vabbè io se stessi con come Ripley mi mollasse diventerei più pezzo di merda di quello che sono magari sbaglio ma guardate che è lei che sfancula lui non vi ce l'ha è la voglia ma certo però non lo farei repentino così da prestamina a Roo così no ci vuole qualche settimana da lì è il castello che crolla no no secondo me non è che scoppia alla prima puntata dopo la prestamina di Roo la prima puntata ci saranno già le primi attriti le prime frizioni ma cosa vuol dire che la prima vera difesa di Ria sta difendendo da un anno questa qui ha sconfitto tutte che non li creano gli espianti credibili però assieme assieme a Gunter è una heel che vince pulito ma sempre sì sì perché è dominante le ha saltate tutte tutte sì perché sono heel sono heel e non chiede l'aiuto degli altri no no perché sarebbe come a dire che non sono in grado di farlo da soli in Australia vince contro Naya Jax ragazzi e la fanno vincere da face oltretutto che cazzo deve fare poi no anche perché ci scrive da solo il match di dici che vince la face dopo Crescenia sì beh in Australia lei è australiana la tiferanno e Naya la ah beh sì l'hai già visto ieri in quel contesto sì in quel contesto porca vacca a parte che ormai è face dappertutto cioè non è face ufficialmente perché comunque non è da face però è non puoi non turnarla cioè devi no perché ma perché non funziona più non se se tutti ti fanno l'ile non li feschi che cazzo di lei non ha senso l'hanno già capito contro Naya Jax vai però poi Becky facce la fare tanto potevano citarla anche Roman e De Rock visto che comunque è la cugina secondo me potevano potevano spingere anche su quello sono tutti imparentati è qualcosa di incredibile tra l'altro notare come lei sia De Rock con la parrucca in effetti quindi beh cazzo è uguale diviso uguale tu ridi però è vero scusa ma no non è un modo di dire che è brutta assolutamente no però proprio fisionericamente Cristo è De Rock con la parrucca change my mind fate un photoshop di De Rock con i capelli lunghi e mossi vedete che noia Cristo scusa anzi adesso te lo cerco che siccome c'è adesso scopriamo che che il Lego di De Rock è talmente tanto grande che è lui è veramente lui è lui travestito che vuole essere vuole comandare anche su NXT comunque dicevo secondo me sicuramente il match cioè il main event di Elimination Chamber sarà Ria contro Naya io sono abbastanza convinto di questa cosa che lo dicevo con alcuni in chat sì anch'io mi sembra proprio palese anch'io anch'io non so come farà sollevarla per la no avete visto l'introduzione della figlia di De Rock a NXT io te l'ho detto che stranamente è stata promossa al ruolo di general manager però posso dire che secondo me potrebbe sicuramente una cosa proprio di raccomandazione magari però così a vederla così mi sembra anche una che ci sa fare allora secondo me il microfono è un po' ingessata però sta già migliorando un pochino rispetto alle sue il punto è quando hai come padre di De Rock ci sta che lui voglia spingere verso quella carriera però comunque gli avrà fatto anche da insegnante gli avrà insegnato delle cose suppongo quindi sì 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 vabbè ragazzi chiudiamo che sono le 16 ci siamo divertiti e il tempo è passato in fretta saluto e ringrazio Victor grazie grazie a voi puntata che attendevo particolarmente perché avevo bisogno di sfogare alcune alcune impressioni dai dai saluto Mike Pepsi grazie ragazzoli per la compagnia vediamo cosa succede fra qualche ora perché ogni volta che finiamo una live succede qualcosa e ci vediamo la prossima settimana e saluto Kirio 1984 1984 grazie a voi grazie a voi ragazzi vediamo Smackdown stasera cosa succede io comunque chiudo dicendovi che voglio un promo di facce da chop fatto come lo spot di WWE 2K quindi con le nostre facce spalmate su altri che palesemente non siamo noi che scrifo questa storia quella quella è la peggiore perché proprio non sembra non è reale è proprio sbagliato nessuno parlerebbe così quindi Stone Cold credo sia entrato nei miei incubi peggiori proprio si vedono delle robe fatte benissimo con l'intelligenza non riescono a farle loro è orribile mamma mia ci vediamo venerdì prossimo alle 14 ciao ragazzi ciao